Grazie signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, il Ministro se n'è andato ma ascolterà qualcuno. Il Covid non è ancora battuto ma dobbiamo riconoscere che su questa grave crisi sanitaria l'Europa ha mostrato uno dei suoi lati migliori. L'acquisto comune di vaccini, il Green Pass, il Next Generation Euro rappresentano tre esempi virtuosi di una Europa reattiva che affronta e risolve i problemi. Dobbiamo continuare su questa strada, stimolando la vaccinazione, lavorando su un quadro giuridico che garantisca la libertà di circolazione delle persone, evitando scelte nazionali che possano minare questo principio cardine, distinguendo infine i diritti di chi ha scelto responsabilmente di vaccinarsi e quindi di tutelare se stesso e la collettività da chi sceglie di non farlo. Ci aspettiamo, signor Ministro, che i governi europei diano risposte chiare su questo. Così come ci aspettiamo impegni precisi per rispondere alla crisi dei prezzi dell'energia da un lato, portando avanti gli impegni sull'energia rinnovabile e l'efficienza energetica con il pacchetto Fit for 55 e dall'altro procedendo ad acquisti congiunti per incrementare lo stoccaggio di energia e ridurre la dipendenza da Paesi terzi. Le buone notizie e le buone intenzioni finiscono qui. La questione migratoria continua a rimanere la più grande vergogna che pesa sulle nostre spalle. Cosa stiamo aspettando? Il Parlamento negli ultimi anni ha fatto la propria proposta. Cosa stanno aspettando i capi di Stato e di Governo? Ai confini di Polonia e Bielorussia, nei campi di Lesbo, sulle navi del Mediterraneo, da salvare. Non ci sono solo le vite umane, ma anche l'anima dell'Europa. Senza quella verrà meno il nostro futuro. Buon Natale e buon anno a tutti.